Ben trovati colleghi e colleghe e in questo tutorial cerchiamo di vedere come creare questi quattro argomenti che ho inserito come creare un corso Moodle, poi al suo interno come inserire documenti Word, PDF e PowerPoint e qualunque altra cosa simile non cambia molto come inserire un'immagine e come inserire un video preso semmai da YouTube vediamo nell'ordine come fare intanto partiamo dal nostro sito scolastico perché da qui già da tempo c'è il link scorrendo la pagina ecco qua Moodle Classroom va bene quindi partendo dal nostro sito scolastico clicchiamo ed entriamo dopo aver cliccato ci ritroviamo in questa pagina che è la pagina di login dobbiamo andare vedete qui in alto a destra cliccare sul login chiaramente le credenziali sono quelle che già vi sono state fornite o in mancanza si possono chiedere alla docente referente per questa cosa vado a mettere delle credenziali di prova che ho diciamo messo proprio per l'occasione docente invece normalmente la diciamo la tipologia di credenziali sono tipo nome punto cognome ma la password ovviamente tutta diversa e qui metto sempre una volta messe vedete clicchiamo su login qua ci chiede di salvarlo sulla vostra postazione potete tranquillamente mettere sì mettiamo no appena dentro vedete qua di fatto ci chiede solo due informazioni come obbligatorie e ce ne accorgiamo che c'è il punto diciamo esclamativo rosso il titolo del corso e il titolo abbligato il titolo del corso questo è importante mettersi d'accordo tra di noi come almeno nella forma poi è chiaro ognuno metterà i titolo per quanto riguarda l'argomento che gli pare potrei mettere giusto per dare un suggerimento una prima cosa che ne so corso di inglese trattino e qui è la parte invece importante qua è bene mettere il nostro cognome e nome se il cognome è unico basta quello perché giustamente se tutti i docenti di inglese come ho nell'esempio creano un corso e lo chiamano tutti corso di inglese quando dobbiamo andare a mettere gli alunni ed è un'operazione che faremo noi diciamo del team digitale ci fate impazzire perché sappiamo qual è il corso di chi quindi è una codifica necessaria per distinguere un corso dall'altro va bene quindi a noi non costa nulla fare quello che stiamo dicendo però ci rende rende la vita più semplificata ed evitiamo errori poi dopo quindi qua potrei mettere troiano g va bene ma con la maiuscola quindi questa è una codifica il titolo breve potrei tranquillamente mettere mettere per esempio inglese trattino troiano va bene quindi insomma una cosa più abbreviata vedete la categoria di cui vi parlavo lui ci propone mo liceo scientifico ma solo insomma perché stava in ordine prima lì e poi per inciso ci sono anche più classi se vogliamo 22 classi però se clicchiamo vedete possiamo scegliere proprio la categoria di cui parlavo quindi se questa è una classe insomma di ne so dello scientifico e classico posso scegliere giusto un'altra cosa scusate se torno indietro se voglio creare più corsi d'inglese per più classi chiaramente lo metto già nel titolo che ne so giusto un esempio prima scientifico va bene quindi se ho una sola classe non serve neanche perché anche per noi è più facile individuare però se uno c'ha una prima una prima b faccio per esempio è chiaro che è bene già metterlo nel nel titolo ok quindi scegliamo la categoria o lasciamo quella visibilità avete visto quelli che si vedevano in grigio perché stava messo nascondi in realtà poi si possono rendere visibili in un attimo ma come detto nella necessità di creare un corso ma anche se fosse in questa prima fase solo per esercitarci noi e quindi mettere materiale come dicevo come capita cioè se devo mettere un documento mi basta metterne uno non è che devo scegliere esattamente quello che che poi voglio far arrivare ai ragazzi poi nel corso che invece diventerà reale è chiaro che lì il materiale sarà ben diciamo già predisposto e pensato prima però nella fase di esercitarvi mettete liberamente quello che volete perché dopo che l'avrete fatto prendete sto corso non dovete manco eliminare uno a uno i termini lo proprio cancellate va bene e ne rifate chiaramente un altro quindi lasciamo visualizza vedete scusate la data di inizio oggi è 6 marzo 2020 lui propone sempre il giorno dopo è una cosa che sta lì è la data di fine vedete 7 marzo 2021 qui potremmo pure togliere questo abilità scusate ma in maniera che il corso una volta attivato vedete si diventa scuro significa che il corso partirà domattina per così dire ma non termina non non ha un termine va bene io sorvolo sulle cose che non ci interessano tipo il codice identificativo che è una cosa per chi gestisce centinaia di corsi non è il nostro caso in introduzione al corso possiamo mettere due righe che non so giusto questo è il corso d'inglese per la classe insomma prima ma scusate se digito non voglio manco ricorreggere e semmai posso specificare il tipo di materiale che vado a mettere va bene quindi come dicevo non è uno dei dati obbligatori e i dati obbligatori sono solo scusate se torno sopra solo questi due ok quindi già ci sono delle impostazioni però è bene vederle un po' tutte file dell'introduzione al corso e se vogliamo mettere un logo al corso ma questo voglio tralasciarlo sempre perché non è assolutamente una cosa necessaria andiamo a vedere invece formato corso e file upload dopo in formato corso qui sta già impostato per argomenti io suggerisco di lasciarlo così perché stanno poi altri formati ma vi faccio solo vedere settimanale attività singola vi assicuro che è già stato tutto studiato e la migliore è per argomento poi vedrete come appare numero di qua dice sezioni ma in realtà è numero di argomenti cioè quando lui ci creerà il corso così come sta adesso andrà a mettere argomento 1 2 3 4 ma nulla toglie che possiamo adesso già ampliarlo qua arriva insomma un numero enorme oppure lasciamo pure così perché poi dentro il corso stesso avremo modo di aggiungere gli argomenti quindi non è che dovremo tornare qui e fare nient'altro va bene quindi solo questo volevo sottolineare file upload e upload invece è una cosa riguardo più che altro che cosa una delle cose che offre modul delle possibilità è quella di permettere agli alunni di mandare loro dei file quindi quelle è l'upload quando si carica qualcosa su una piattaforma insomma non il download che è esattamente il contrario quando scarichiamo da una piattaforma qui vedete io già scusate ho impostato il limite di 2 megabyte perché un limite perché se lasciamo agli studenti di mettere quello che gli pare immaginate per esempio 250 megabyte il discorso qual è che questi qua potrebbero inviare dei file con delle immagini enormi e insomma e quindi intasare tutto quindi invece 2 megabyte se devono mandare dei file di testo anche con delle immagini di cui hanno ridotto la qualità e loro sanno benissimo come fare il file arriva un mega un mega e mezzo quindi 2 mega è una ampiezza studiata va bene andiamo giù ripeto stanno altre impostazioni che adesso voglio sorvolare perché non ci interessano andiamo a salvare una volta creato il corso che succede? ci riporta un po' dalla schermata dove era... vi ricordate? gestione corsi e categoria e che cosa fa Moodle in automatico? pone il nostro corso come praticamente l'ultimo che è stato creato in ogni caso anche quando ritorniamo perché è chiaro che poi nel giro di pochi giorni potranno essere creati decine di corsi quindi il nostro non sta più in cima vedete come quello che ho appena creato però il nostro lo troviamo in un attimo perché l'ingranaggio, il cestino e l'occhio che serve appunto a nascondere o a rivisualizzare troveremo quei tre strumenti solo per il nostro corso quindi finisce vedete qua varie pagine anche potrà finire a pagina 2 se non lo vediamo subito a pagina 1 ma il modo per trovarlo velocemente è quello perché solo al nostro corso vediamo l'ingranaggio adesso apriamo il corso come si fa? si clicca cliccandolo è come se lo selezionassimo un attimo solo la finestra vedete diventa così quindi non solo c'è insomma però è cambiato un pochino ma scorrendo giù questa è la parte importante vedete c'è visualizza va bene? quindi con il visualizza riusciamo a entrare nel nostro osso invece giusto già subito una puntualizzazione se vogliamo modificare qualcosa tipo il titolo ci siamo accorti che era per la prima A e poi decidiamo di farlo per le prime perché ho due o tre prime è inutile fare tre corsi come dire in parallelo ma ne faccio un'unica in orizzontale insomma per capirci cliccando su modifica troviamo le identiche impostazioni che abbiamo appena fatto quindi ci permette di modificare qualunque di queste o vedete c'è il pulsante elimina anche se l'elimina si poteva anche dal cestino è quello che vi ho detto in questo primo corso se volete solo esercitarvi fatelo pure perché poi lo buttate via lo eliminate e ne create un altro che sarà quello che è quindi andiamo a cliccare su visualizza ecco qua siamo dentro il nostro corso come dire esiste sta qui va bene? chiaramente vedete come abbiamo scelto di mettere 5 quella le chiamava sezioni 5 argomenti che sono vuoti c'è sta cosa di annunci che Moodle mette in automatico lì per esempio potremmo usarla anche per mettere qualche comunicazione che riteniamo veloce da dare agli alunni che non vogliamo mettere sul registro elettronico ovviamente dobbiamo iniziare a modificare perché è che avevamo detto nel nostro corso quindi il corso Moodle l'abbiamo creato adesso iniziamo a vedere come inserire un documento un pdf, un powerpoint chiarisco subito che la tipologia di file che andiamo a mettere quindi uno di questi ho messo i puntini apposta cioè per dire un qualunque altro è assolutamente indifferente lo vedrete tra un attimo quindi qualunque tipo di materiale noi vogliamo disporre diciamo da inserire che sia appunto di tipo testuale solitamente possiamo farlo senza nessun problema e ora vedremo come fare intanto dobbiamo andare vedete qui c'è questo ingranaggio questo ricordatevelo bene lì in alto a destra perché è quello che ci permette vedete se clicchiamo non tanto impostazioni che torna sempre a quella modifica scusate del corso ma dobbiamo andare su attiva modifica infatti appena clicchiamo ci rendiamo conto che stiamo in questa modalità tra un attimo vedete vedete uno adesso hanno qualsiasi delle cose che non c'erano prima va bene quindi ci accorgiamo che stiamo nella visualizzazione come dire di riempimento di questo corso in ogni momento invece per rivedere un po' quello che vedono gli alunni se vogliamo vedete il pulsante che prima era attiva modifica è diventato termina modifica che ora non lo faccio ma torneremo esattamente come era prima la cosa gli argomenti beh che ci scriviamo lì beh qui dobbiamo scrivere come dire il titolo di di quell'argomento che può essere insomma chiaramente di qualunque natura quindi su questo probabilmente è più complicato tra virgolette farlo cioè pensarlo in un esempio come questo che non in un caso reale se io devo mettere che ne so l'utilizzo del presente in inglese insomma mi sono scelto una materia pure non proprio in cui vado benissimo comunque l'inglese è chiaro che metterò il titolo legato appunto al presente quindi qui vedete c'è la penna appena cliccate vediamo che succede posso mettere che ne so può mettere in italiano ma non mi fate mettere in del presente facciamo invio va bene quindi dopo aver messo il titolo vedete qua che dicevamo inserire un documento o qualcosa aggiungi un'attività o una risorsa come andiamo a fare poi faremo pure il modifichio un'altra cosa qua stanno tante cose che possiamo fare ve ne accenno giusto qualcuna per esempio il compito e quando proprio si può chiedere agli alunni di consegnare loro un qualche file come vi accennavo all'inizio di questo tutorial i quiz per fare per esempio dei test di autovalutazione insomma ma sono cose che poi semmai rimando ad altri tutorial che peraltro già esistono fatti da me invece noi che cosa dobbiamo fare vedete dobbiamo come risorsa andare a condividere un file poi una cosa interessante diciamo ogni volta che cliccate su una di queste cose pure qua girate tranquillamente lui spiega anche che cos'è insomma quindi se vi viene il dubbio di come insomma di che cosa serva quella specifica cosa l'unica cosa per non farvi demotivare prima il linguaggio è insomma alquanto non in questo caso che è una cosa semplice ma pure in altri alquanto tecnico e tenete conto che è una traduzione anche dall'inglese americano quindi insomma c'è il rischio di leggere ciò che che lì viene indicato insomma è solo per chi semmai ha una qualche dimestichezza va bene perciò quindi dicevo andiamo a me per esempio questa è un'altra cosa che useremo se vogliamo condividere un link un link a una pagina un che ne so un qualche cosa che abbiamo utilizzato non i video perché quello lo faremo in un'altra maniera quindi selezioniamo file e andiamo a fare aggiungi ci fa entrare in questa pagina al solito l'unica cosa obbligatoria vabbè forse no forse pure il file dopo ma non lo riesco a vedere è il nome da dare cioè sto coso che poi i ragazzi troveranno come dire questa scritta quindi io potrei mettere che ne so indicazioni sull'uso del presente ho sempre in quella l'idea che vogliamo usare il verbo presente che ne so di qualche verbo ok quindi scriviamo una frase perché è quella che poi loro andranno semplicemente a cliccare qui sopra la descrizione potremmo come dire qui argomentare meglio quindi mettere tutta una cosa ma non voglio assolutamente perdere tempo bla 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 vedete c'è la cosa di far visualizzare la descrizione già direttamente nella home e questo può essere invece una cosa cioè se ho messo una descrizione perché loro potrebbero potrebbero pure trovare che non so lì ho messo qui indicazioni sul verbo presente e qua poi spiego meglio insomma come dire quindi più indicazioni diamo e chiaramente più esaustiva la cosa quindi spuntiamo anche noi almeno vediamo come appare la mettiamo la spunta qui adesso la cosa importante seleziona file va bene cliccando su questa iconcina la prima oppure vedete c'è ce lo dice pure trascina con il drag and drop va bene quindi questo che significa che però devo tenere già l'altra finestra aperta e fare il trascinamento io ho visto che molti colleghi sono già abituati a questo modo di pubblicare un file quindi possono farlo tranquillamente chi invece vuole come dire seguire tutto l'iter canonico deve cliccare qui ci riporta in questa finestra va bene dove il file upload questo è un file che dobbiamo andare ad inserire adesso perché non esiste giustamente vedete c'è il allegato quindi sfoglia nessun chiaramente file messo andiamo a cliccare su sfoglia a questo punto dobbiamo andare a mettere il nostro file io ovviamente sul presente che ne so del verbo essere in inglese non ho nulla quindi è chiaro che appunto come accennavo prima è più problematico adesso che non in una situazione reale in cui invece il file già l'ho bello preparato lo devo solo pubblicare ho aperto giusto una cosa legato al metto questo però voglio farvi osservare come dicevo prima che a questo punto potrei scegliere tanto come sto facendo un file pdf quanto un che ne so vedete un file word o insomma una qualunque altra cosa va bene quindi posso andare a scegliere quel file dopo averlo scelto quindi potrebbe stare vedete sul desktop dove vi pare voi sapete sul vostro computer ovviamente dove sta una volta selezionato faccio apri ecco qua ci ritorna alla schermata vi ricordate che fino a un attimo prima qua diceva nessun file selezionato adesso ci dice informazioni necessarie punto docx insomma quindi il file che abbiamo messo l'autore qua tutte sciocchezze insomma i diritti riservati quant'altro carica questo file va bene quindi diamo una ricontrollata perché se abbiamo sbagliato ovviamente possiamo ricliccare e sceglierne un altro se andiamo a cliccare qui vedete adesso verrà riportato da dove era partito vi ricordate siamo partiti da questa icona o con il dragon avremmo vedete sta bella ina del world per farci anche capire ma a parte il nome che pure vediamo che è un file chiaramente di tipo world se per un qualunque motivo volessimo cancellare sta cosa vedete scusate l'ho fatto senza dirlo lo rifaccio se rifaccio doppio clic vedete c'è elimina va bene quindi in ogni momento non è che se ho messo un file deve rimanere lì per sempre ok quindi potrei eliminare questo e chiaramente rimetterne faccio però nulla va bene per il resto allora facciamo solo aspetto qua dice visualizzazione automatica però io direi questa cosa qui il scusate se si riapre ecco potremmo mettere forza il download cioè che significa che appena loro cliccheranno poi facciamo anche noi la prova cliccheranno su quella scritta si scarichano il file che è la cosa migliore che possa accadere perché almeno ce l'hanno sul loro computer va bene quindi io imposterei così o ripeto potete lasciare così comunque però ecco su alcuni computer potrebbe aprirlo poi insomma creando qualche altra difficoltà io metterei forza download per il resto va bene tutto bla bla ok andiamo giù e torna al corso vedete qual è l'aspetto il file notate che è cliccabile quindi appena clicco chiedere perché possiamo anche noi vedere se funziona mi dovrebbe non provare ad aprirlo ma a salvarlo eccolo qua come avevamo detto quindi apri ovviamente appunto diciamo salva e continuiamo e qui invece vedete appare quella descrizione che ho messo quindi può essere utile diciamo rimettere sta cosa qui vediamo adesso la terza diciamo operazione quindi abbiamo creato un corso abbiamo messo uno o più file testuali word pdf powerpoint quello che vogliamo perché quella cosa che ho detto prima la possiamo replicare anche n volte mi credo dobbiamo mettere per forza un solo in ogni argomento andiamo a mettere un nuovo file quindi mettiamo appunto la descrizione e quant'altro però supponiamo che ci serva pure mettere un'immagine che e questa la situazione non è così inverosimile perché io potrei semmai aver scritto delle cose su carta ho fatto una scansione o una fotografia delle cose che ho scritto quindi quella è una foto non è un documento word e la voglio rendere disponibile qui in moodle quindi la possibilità che effettivamente ci possa essere un'immagine non è così remota oppure sia chiaro potrebbe essere un'immagine presa che ne so da internet vediamo come si fa va di modo argomento 2 che ne so metto immagine di prova non so se non mi ho perduto troppo tempo a pensarci pure immagini di prova prima noi siamo andati in aggiungi un'attività risorse se vogliamo mettere una cosa di questo tipo cosa che ho detto possiamo fare in tutti gli argomenti andare su modifica e appare modifica argomento clicchiamo qui appare la schermata va bene vedete c'è sta cosa sta casella dove possiamo scrivere quindi potremmo scrivere per esempio l'immagine che voglio presentarvi è la seguente due punti e poi voglio far ficcare l'immagine qua vedete c'è una casella degli strumenti perché insomma se avessi voluto non so rendere in grassetto vedete corsivo insomma stanno elenchi puntati numerati cioè giusto una cosa minimale poi vedremo questa dei link dopo invece l'unica immagine che a noi serve è questa qui vedete l'icona scusate se rimanete un attimo vedete appare scritto immagine se andiamo a cliccare appare sta cosa vedete inserisci l'url cioè come dire qui potremmo anche inserire un un'immagine presa da internet questa è la cosa che permette di fare oppure molto più vero e quindi qua dovremmo incollare l'indirizzo di quell'immagine oppure in maniera più verosimile che andiamo a fare cioè l'immagine noi ce l'abbiamo sul nostro computer come detto può essere una foto che abbiamo fatto o scannerizzata andiamo a fare sfoglia repository chiaramente qui non c'è nessuna immagine quindi un po' come abbiamo fatto prima quando abbiamo inserito un quel documento word quindi giustamente ci chiedeva in file upload voglio farvi notare in file recenti adesso dovrebbe starci già ah no non c'è niente perché non c'è un'immagine invece se fossero stati file avremmo trovato quel file word vabbè torniamo quindi in file upload sfoglia vedete ci apre una cartella anche qui sembra lo stesso discorso noi sappiamo benissimo dove si trova la nostra immagine supponiamo che questa ma ne metto una qualunque mettiamo quest'altra lezioni private ok apri qui vedete appare quest'altra finestra tra un attimo quindi siamo tornati dove stavamo come prima vedete lezioni private jpg carica questo file qui adesso una cosa importante vedete questa casellina descrizione perché entri dell'immagine o metto qualcosa quindi che ne so l'immagine per i verbi bla 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 oppure devo spuntare descrizione non necessaria ricordatevi questa cosa qui notate ci fa vedere già la dimensione dell'immagine che possiamo anche modificare successivamente però vi chiarisco subito se c'è un'immagine per esempio lì trovate 2000 per 1000 insomma è un'immagine di altissima qualità che sarebbe grandissima nello schermo possiamo ridimensionarla perché che succede vedete faccio una modifica banale da 414 metto 400 però vedete cliccando a fianco senza rimodificare lui l'ha già ridimensionato quindi se stava 2000 andrò a mettere 3-400 insomma è il ridimensionamento della che qua è come fosse larghezza e altezza ma non lo so quale di due nell'ordine va bene lo fa in automatico quindi mettiamo descrizione non necessaria salvo immagine siamo tornati nell'argomento due vi ricordate avevo iniziato a scrivere l'immagine che voglio presentarvi è questa e qui c'è effettivamente l'immagine se adesso io porto ora sulla destra dell'immagine vedete che sta lampeggiando qui e faccio invio potrei continuare a scrivere va bene quindi un po' come capita nei libri nelle pagine web va bene quindi noi nell'esempio mettiamo un'immagine però sia chiaro potreste adesso dopo aver scritto qualcos'altro ripartire da quell'icona immagine e metterne un'altra va bene quindi non c'è un limite non è che in ogni argomento deve stare solo un'immagine o ci deve stare solo l'immagine per questo ho voluto mettere vedete prima un testo poi un'immagine insomma quindi tanto tutte queste cose potremmo eventualmente modificare va bene se è tutto a posto andiamo a fare salva modifiche e questa è l'anteprima che ne vediamo vedete c'è il nostro argomento che abbiamo messo prima quindi il nostro documento il nostro file adesso c'è l'immagine vedete come appare le scritte che abbiamo messo sopra tutto e anche qui voglio chiarirvi nell'argomento potremmo scrivere veramente quanto ci pare non c'è un limite non è una breve descrizione e insomma chiaramente se è una cosa veramente molto lunga piuttosto che metto un argomento che è di mezzo metro creo un file lo metto in un documento word e diciamo come abbiamo fatto prima rendo disponibile il documento piuttosto che appesantire troppo la cosa allora per mettere un video come dicevamo da youtube chiaramente lo dobbiamo cercare solitamente noi nel fare questa cosa già ce l'abbiamo un video però supponiamo per esempio scrivere verbi in inglese ma giusto vediamo cosa riusciamo a trovare vedete abbiamo vari verbi ma faccio finta che mi sono lo apro un momento ok quindi immaginiamo ce lo siamo già ascoltati quindi siamo certi che il video che vogliamo condividere vedete qui c'è proprio un pulsante sotto ad ogni video che si chiama vediamo che succede vedete c'è il modo per condividere ma non interessa invece il link di questo video e andiamo a cliccare proprio su copia ok una volta cliccato su copia possiamo tranquillamente chiudere youtube perché non ci serve più e tornare al nostro corso supponiamo di voler mettere qui il video adesso mettiamo video lezione lezione sui verbi no sempre insomma giusto così va bene e dobbiamo tornare un attimo sta aggiornando modifica argomento torniamo a una schermata che già avevamo visto quando abbiamo messo l'immagine quindi portiamo il cursore dentro allora in youtube abbiamo fatto copia adesso che facciamo incolla l'incolla sia chiaro si può fare in tanti modi o con il tasto destro io l'ho fatto con una combinazione i tasti ctrl v adesso una cosa importante da vedere messo il link perché questo è il link a quel video così non funziona non lo vedremo qui invece che dobbiamo fare dobbiamo selezionare ok quindi deve stare tutto in blu andare qui sull'icona delle catene vedete il collegamento clicchiamo qui ci dice ancora inserisci un url destro incolla lo stesso link va bene qua non devo premere sfoglia crea collegamento ci accorgiamo che è stato messo il collegamento perché vedete adesso se torniamo qua non sto vedendo il video ma vedo che vedete che è cliccabile per così dire non sono mai cambiato colore torniamo indietro facciamo salva modifiche e vediamo che succede vedete quel video abbiamo integrato nel nostro moodle quindi potremmo ho manco lanciato cioè quando l'alunno fa play non viene portato fuori rimane dentro moodle va bene quindi questo perché non prendi il play non lo so quindi riepiloghiamo un po' ma come detto ne potremmo aggiungere o nello stesso quanti ne vogliamo scusate abbiamo un'immagine con le lezioni prima e dopo abbiamo aggiunto un video preso da youtube vi ricordate e potrei all'inizio proprio quando abbiamo creato il nostro che ci chiedeva di mettere cinque argomenti aggiungi argomento cioè se abbiamo la necessità di mettere un altro paragrafo lo possiamo tranquillamente fare qui va bene quindi non dobbiamo tornare anzi notateci chiede pure quante sezioni mettere mettiamone che ne so tre aggiungi quindi arriveremo argomento otto chiaramente lui mette sempre all'inizio questi nomi banali argomento uno due tre ma avete notato che io in ognuno ho messo un titolo perché insomma facciamo capire agli alunni di che cosa stiamo parlando in quello specifico argomento va bene quindi questo è un po' un primo approccio in un modo molto più ampio un po' potete eccoli qua vedete sei sette potete anche voi cercare di gire tra i vari meandri per non so vedere altre opportunità che offre l'ultima cosa il corso volta che avete preparato tutto il materiale didattico come ho un paio di volte ma velocemente adesso lo chiariamo meglio ovviamente non è visibile agli alunni perché quale alunno deve starci noi abbiamo settecento alunni che ne sappiamo quali metto quindi dovrete voi dirci quali alunni aggiungere a questo corso è una cosa che preferiamo fare noi tanto ci mettiamo veramente pochi minuti perché stanno già tutti e quindi ci basterà segnalare che per il corso che ha qui vi ricordate che abbiamo detto più volte all'inizio vedete qui esce il titolo abbreviato però eccolo qua vedete corso d'inglese prima ci direte aggiunge la classe questa questa e quest'altra e noi le andremo aggiunti una volta aggiunti praticamente voi non dovrete fare altro che mettere materiale didattico quindi gli alunni saranno abbinati a questo corso e quindi ogni volta che ci sono aggiornamenti sul materiale didattico lo troveranno qui come abbiamo chiarito nella circolare di oggi chiaramente sul registro elettronico andiamo invece a mettere gli argomenti almeno i ragazzi sanno pure che è stato pubblicato un materiale didattico con Moodle e quindi insomma possono utilizzarlo in questa situazione di emergenza grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti